Oggi parliamo della vendita elegante, le fassi della vendita a colori. Che cosa vuol dire questo? Ora, questo è un argomento molto interessante che ci insegna Ciro Imparato nel suo libro La tua voce può cambiare la tua vita. Ora, qui ci viene spiegata una cosa. La vendita, perché sia di successo, bisogna che segua quattro fassi in particolari e in ognuna di queste c'è un modo diverso di comunicare. Ora, perché strutturata in questo modo? Perché prima, fino agli anni 90, le cose stavano diversamente. Praticamente prima succedeva che un venditore, quando incontrava un cliente, faceva, dopo un veloce incontro, una breve presentazione, c'era una grossa fase in cui faceva pressione per fare la vendita. Ecco, attraverso tutte le tecniche e strategie, premeva perché ci fosse la vendita. Ecco come era prima. Ora invece il mercato è cambiato, l'offerta è cresciuta, quindi tutto il modello è stato trasformato, si è rivoluzionato. Quindi bisogna capire come funziona, anche perché scoprirai che alla base di tutti i nostri rapporti ci sono queste quattro fasi. Ora, di che cosa stiamo parlando? Quando c'è un processo di vendita c'è prima un approccio, un'intervista, un'argomentazione e una chiusura. Che cosa vuol dire? Che quando c'è l'approccio e si incontrano, è l'incontro delle due persone, del cliente e del venditore, in cui appunto c'è un piacevolezza nell'incontro perché magari tutte e due stanno per fare dei buoni affari, giusto? Poi c'è la fase dell'intervista. Allora, il venditore pone delle domande per capire esattamente di che cosa ha bisogno la persona. Non si preoccupa di subito ti vendo il prodotto. No, 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 no. Prima bisogna capire di cosa ha bisogno la persona. Questo per creare fiducia. Perché se incomincio a vendere senza sapere di cosa ha bisogno l'altra persona, l'altro non si sente compreso. Non sente che mi sto prendendo cura proprio di lei, giusto? Quindi questa è la fase dell'intervista. Argomentazione. Benissimo. Allora, ci siamo salutati, ho capito di cosa hai bisogno, ora ti presento il mio prodotto e ti spiego le caratteristiche che ha e come risolve i tuoi bisogni, cioè come risolve il tuo problema. Ok? Quindi a questo punto c'è un problema e ti presento la soluzione. C'è fiducia, quindi tu effettivamente ci credi, c'è un senso quello di cui stiamo parlando. E poi a questo punto arriviamo alla chiusura. Quindi il cliente ha visto che ci guadagna, che è magari più il suo guadagno di quello che investe, quindi dice benissimo, mi piace, compro. E lì c'è il momento di acquisto. Bene. Queste sono le quattro fasi. Ora, se abbiamo capito queste quattro fasi, l'errore sarebbe ora di comunicare allo stesso modo in tutte e quattro. E non è così. Non è così. Di questo ne parleremo nei prossimi video. Però ti dico brevemente che succede. Quando c'è il momento di approccio, c'è da presentarsi con la simpatia. Qui ci deve essere il sorriso. Non puoi trovare il venditore serioso che ti parla in modo monotono. No! Quella persona si presenta con il linguaggio del corpo aperto, con gli occhi entusiasti dell'incontro. Questo rende tutto molto più facile. Nel momento della seconda fase è quella della empatia. Quindi si parla in modo empatico. Si ascolta. Proprio si ascolta. Non c'è da preoccuparsi tanto di che cosa dire. C'è da fare delle domande. Ma soprattutto c'è da ascoltare con interesse autentico in quella fase. Poi la terza è quella della autorevolezza. Cioè si parla in un certo modo. Si comunica con sicurezza quello che è la soluzione al problema della persona. Se uno si presenta in modo sicuro, la persona dice Ok, questo mi interessa, questo mi piace. Poi vedo che questa persona sa il fatto suo. Quindi è un po' come se dentro del messaggio ci fosse implicita una sorta di garanzia. Ecco. E poi c'è la quarta fase che è quella della passione. È quella che coinvolge più di tutto. E quindi l'entusiasmo appunto per il prodotto, per il successo dell'affare. Ecco, quando si seguono queste quattro fasi e cambia la comunicazione a seconda del momento in cui ci troviamo e viene superata una fase che è quella delle obiezioni. Cioè quando la persona obietta, ha dei dubbi, deve capire qualcosa, se queste fasi si seguono risulta tutto molto più facile. E soprattutto fa la base di un affare win-win. Cioè in cui vincono tutte e due le persone. Su questi argomenti appunto ne parleremo nei prossimi video. Quindi ricorda, fasi da seguire. Una è quella di simpatia, empatia, autorevolezza e passione. E poi scopriremo come comunicare specificamente con successo in ognuna di queste. Ciao, alla prossima!